32 società italiane di piccola e media capitalizzazione hanno incontrato oggi la comunità finanziaria durante la small cap conference nella sede di borsa italiana oltre 60 gli investitori presenti a cui le aziende hanno potuto illustrare risultati e strategie per il futuro mediante sessioni plenari e incontri one to one i nostri investitori credo abbiano apprezzato molto la nostra capacità di generare innovazione soprattutto in un ambito come quello dell'artificial intelligence che è diventato di grandissima attualità non è più qualcosa solo di dette e lavori noi ci siamo trasformati nel frattempo da società italiana nel momento in cui siamo quotati a società internazionale che è presente su sette paesi copre oltre 12 lingue soltanto negli ultimi due anni si sono quotate sui mercati di borsa italiana 40 small cap di cui 28 sul mercato è in italia dedicato alle società con alto potenziale di crescita la giornata si è aperta con un confronto sull'iniziativa supporto del settore tra matteo zanetti coordinatore gruppo tecnico per credito e finanza di confindustria fabrizio pagani capo della segreteria tecnica del ministero dell'economia delle finanze e raffaele jerusalmi amministratore delegato di borse italiana proprio jerusalmi ha spiegato come borse italiana possa svolgere un ruolo cruciale nel supportare le pmi a mantenere e in alcuni casi anche a conquistare un ruolo di leadership nei mercati internazionali e in italia in particolare continua jerusalmi ha dimostrato di essere una buona soluzione per la raccolta di capitali grazie all'approccio equilibrato nella regolamentazione e ai tempi ridotti per accedere al mercato da quando ci siamo quotati il nostro fatturato è cresciuto in maniera importante perché siamo passati da circa 6 milioni di euro a circa 108 milioni di euro sono molto contento della scelta ci ha obbligato delle forme di crescita che alternativamente forse non avremmo avuto e mi riferisco ai prerequisiti di trasparenza che ci hanno permesso di indossare il vestito buono e quindi di presentarsi al meglio in un mercato dove noi eravamo un piccolo nome e adesso siamo diventati una piccola multinazionale tascabile